La ASL di Bari è prima in Italia per segnalazioni su presunte irregolarità avvenute nell'azienda. Sono 11 i casi sospetti trasmessi ad Autorità Giudiziaria e Forze dell'Ordine. Il servizio. Visite mediche in nero o irregolarità nell'erogazione di ausili protesici. Sono 11 i casi sospetti segnalati dalla ASL di Bari e trasmessi ad Autorità Giudiziaria e Forze dell'Ordine. Complessivamente, dal report annuale, la ASL lo scorso anno ha ricevuto e gestito 44 segnalazioni di presunte irregolarità. Al termine delle verifiche istruttorie, 25 sono state archiviate, 3 sono state inviate all'ufficio per i procedimenti disciplinari, su 7 sono ancora in corso verifiche e le altre 11 sono state trasmesse all'autorità giudiziaria. La ASL di Bari è tra le prime amministrazioni in Italia per numero di segnalazioni ricevute ed è tra le più virtuose secondo il report annuale dell'ANAC, l'autorità nazionale anticorruzione. Sulle visite in nero le segnalazioni sono state inviate alla procura perché riguardavano sempre gli stessi medici ed erano estremamente dettagliate. La consapevolezza sul fenomeno della corruzione, spiega il direttore generale Antonio Sanguedolce, serve ad aumentare trasparenza, integrità e responsabilità, oltre che a mappare i processi aziendali a maggior rischio. La ASL barese punta l'attenzione anche sui fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, prevedendo una maggiore collegialità e trasparenza delle decisioni attuative aziendali, con l'istituzione di un gruppo di lavoro dedicato, oltre all'individuazione di una figura responsabile delle segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio di denaro.